Tornano in libertà il sindaco di Trani Luigi Riservato, l'ex dirigente e amministratore dell'AMIU Antonello Ruggero, l'ex vice sindaco Giuseppe Di Marzio e l'ex consigliere comunale Maurizio Musci. I quattro erano agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sistema Trani dal 20 dicembre scorso per presunti legami fra politica e affari per le assunzioni in città. Il GIP del Tribunale di Trani, Francesco Messina, li ha rimessi in libertà nella tarda mattinata di oggi. Le accuse per gli indagati vanno dall'associazione delinquere finalizzata a commettere più delitti contro la pubblica amministrazione alla concussione, dalla corruzione alla turbata libertà di procedimento di scelta del contraente. Resta ai domiciliari l'ex consigliere Nicola Damascelli, per il quale non era stata presentata istanza di scarcerazione. Nell'ambito della stessa inchiesta era stato arrestato ai domiciliari il funzionario del comune Edoardo Savoiardo che il 2 gennaio scorso era tornato libero. Per lui resta l'interdizione dell'attività.